sono sconvolto scandalizzato per non dire schifato da questa operazione di calcio mercato perché tutto potevo aspettarmi anche e soprattutto perché ne avevano parlato fabrizio romano e gialluca di marzio no problemi nel riuscire a chiudere definitivamente questa operazione di calcio mercato da parte del napoli ma io avevo ipotizzato problemi di natura burocratica magari ho detto no l'accordo tra le squadre c'era perché era 30 più 6 de bonus se non ricordo male la clausola recessoria era 40 ma le condizioni erano state accettate c'era stato l'ir we go di fabrizio romano e gialluca di marzio e io ipotizzavo che ne so considerato il fatto che i contratti dei calciatori nuovi calciatori del napoli no lo sapete sono ricchi de clausole de situazioni e i diritti d'immagine una cosa in altra avevo ipotizzato uno scenario di quel tipo ma mai mi sarei aspettato in extremis sul ripensamento da parte del calciatore che decide di non andare al napoli nonostante fosse praticamente tutto fatto perché c'era dietro in extremis la corte da parte di un club di saudi pro league che alla fine l'ha convinto e se l'è portato a casa e non venitemi a dire che stiamo parlando di un'operazione di calciomercato qualsiasi fatta dalla saudi pro league perché non è assolutamente così e adesso vi darò anche le mie motivazioni il perché sto dicendo una cosa del genere bentornati e ben ritrovati gabrie veiga è un nuovo calciatore della lali quindi sfuma definitivamente l'operazione di calciomercato con il napoli vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo video per supportare questo genere di contenuti vi ricordo che lasciare mi piace non costa assolutamente nulla io credo che sia arrivato il momento innanzitutto di fare esprimere in merito un parere personale al buon fabio su questa operazione di calciomercato ma credo sia arrivato il momento di riaggiornare quel contenuto dove a inizio estate quando si erano spostati praticamente solo benzema e qualcun altro forse altri due calciatori io e fabio avevamo parlato di saudi pro league io avevo lanciato un allarme fabio invece era di parere diametralmente opposto al mio credo che sia arrivato il momento di aggiornare quel contenuto lasciate tantissimi mi piace e in base ai mi piace che arriveranno deciderò se farlo o meno vi chiedo se ancora non siete iscritti ma seguite spesso i contenuti di questo canale di farlo iscrivetevi attivate la campanella così restate anche sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa perché vi arriverà la notifica ma anche perché dal lato mio ragazzi mi farebbe piacere un giorno arrivare a ad una situazione che ad oggi è particolarmente utopica però ecco se ci seguite e ci volete bene a noi farebbe veramente tanto tanto piacere grazie a chi l'ha fatto grazie a chi lo farà abbiamo comunque due canali di calcio e un canale extra calcio vi lascio tutti in info box o compariranno qui durante il video allora io voglio spezzare una lancia in favore di fabrizio romano e gialluca di marzio capisco che fa parte del loro lavoro è capisco che in parte no fa parte anche del mio lavoro no ci esponiamo sui social e quindi siamo soggetti a critiche a ragazzi anche a insulti a tantissime cose però io veramente non riesco a capire chi se la prende per per questa trattativa saltata con fabrizio romano e con gialluca di marzio sotto i loro twitter ho letto degli insulti veramente di ogni tipo dicono che sono loro quelli inaffidabili quando non avete capito che al giorno d'oggi perché succedono sempre più spesso ste situazioni perché so i calciatori che sono diventati inaffidabili che prima danno una parola ragazzi e se promettono a una determinata squadra e poi cambiano improvvisamente idea se fabrizio romano e gialluca di marzio hanno dato l'ir we go quello lo da fabrizio romano significa che era tutto chiuso che era tutto definito e che era tutto fatto non ve la potete prende con loro che non c'entrano assolutamente niente se i calciatori cambiano idea loro semplicemente ci anticipano le cose che accadranno poi ovviamente regà hanno anticipato anche questa perché sono sempre loro poi alla fine che hanno l'esclusiva e che ce le vanno a dire prima degli altri non è colpa loro detto questo perché dicevo a inizio contenuto che non possiamo considerare gabri veiga un trasferimento qualunque in saudi pro league perché fino a che un ragionamento di questo tipo lo fa benzema seppur l'ho detto no a suo tempo pallone d'oro in carica per quanto poi l'età comincia ad andare avanti no però va verso una certa età che lo porta in parabola discendente ma qui stiamo parlando ragazzi di uno di uno dei prospetti più importanti del panorama europeo gabri veiga aveva accettato una delle migliori squadre dei top 5 campionati europei la miglior squadra italiana lo ha dimostrato l'anno scorso accettare a 21 anni una squadra di quel tipo significa avere nella tua testa le idee ben chiare vuoi a livello di carriera fare una carriera importante no alzare il livello delle tue prestazioni migliorare metterti in gioco per poi chi lo sa arrivare a diventare veramente uno dei calciatori più importanti no del panorama calcistico europeo e mondiale mi verrebbe da dire e ragazzi alla fine guardando quello che stava dando no col suo ormai ex club io ve dico c'aveva grandissime possibilità nel fare una scelta di questo tipo nel farlo ovviamente solamente per soldi è inutile che me vengono a di si è fatto convincere dal nuovo allenatore ex red bull salisburgo che poi non ho capito qual è il nesso onestamente perché poi lui ragazzi giovanile terzetta vigo non non mi risulta sia mai stato allenato da può essere pure che li allenava st'allenatore e adesso mi sfugge stavo solo pensando al fatto che ex red bull salisburgo magari ha ce l'ha avuto non lo so e neanche mi interessa ma non venitemi a dire che è una questione di quel tipo 40 milioni di euro pagano la clausola la rescissoria quindi alla fine ragazzi se fosse impuntato lui e avesse detto no napoli da offerto 30 più 6 è già successo anche con altri calciatori è anche qualche giorno fa no che per qualche milioncino d'euro se il calciatore si impunta cioè il club si deve anche un minimo no come si dice allineare a quelle che sono le volontà del calciatore quindi se fosse stata da parte sua la volontà di dire ma ma io alla lali non ce vengo sarebbe andato al napoli qui è anche soprattutto anzi è solo una scelta del calciatore e qual è la differenza ragazzi il vi il denaro non prendiamoci per i fondelli al napoli avrebbe percepito non lo so boh un paio di milioni di euro adesso non ricordo c'era cioè avevo anche letto ma me sfugge io ipotizzo almeno due milioni due milioni e mezzo no per convincere un calciatore del genere non so non sottrapelate le cifre che andrà a percepire alla lali ma voi capite bene che per convincere in 21enne uno che c'è ancora tutta la carriera davanti ad andare in un campionato ad oggi nettamente inferiori rispetto a quelli europei tu lo hai riempito d'oro e mi dispiace che sto ragazzo alla fine ragazzi si è venduto tra virgolette sold come direbbe no come direbbe il buon fabio per i soldi semplicemente per i soldi il paradosso assurdo è che il napoli perde cioè questa è una cosa veramente che da tifoso esterno mi manda ai matti perché tu dici no volevano prendere zielinski zielinski che fa una scelta di cuore che non fa una scelta di denaro e che non loro volevano prendere zielinski rifiuta la destinazione per restare al napoli e loro che ti fregano tra virgolette un calciatore che praticamente avevi preso cioè questa è una cosa fossi stato un tifoso del napoli io penso avrei fatto un macello avrei spaccato tutto quello che si poteva spaccare è un seppur poi lato napoli più di così non potevano fare ragazzi lì ribadisco no non esistono manco più i calciatori della volta che danno una parola e la mantengono ormai regà veramente e più andremo avanti nel tempo e più di situazioni così ne vedremo sempre di più non so se è peggio non so se è peggio onestamente samarzic il padre di samarzic che fa assaltare il trasferimento all'inter per 200.000 euro poi quel teatrino con la pimenta chi dice una cosa lui che ne dice un'altra ovvio che uno dei due sta mentendo e io mi sono fatto un'idea ben precisa di chi secondo me stia mentendo non so se è peggio quella o questa perché là parliamo dei 200.000 euro ed è vergognoso per 200.000 euro qua parliamo dei non lo so quanti milioni di euro di differenza di stipendio per i prossimi anni non so neanche per quanti anni sto ragazzo abbia deciso di firmare però capite che dal lato napoli è una beffa veramente pazzesca per dovere di cronaca giocherà con i bagnez de miral che si marez firmino e se maximen quindi è quello il club per per intenderci no ribadisco scusate mi sta risalire il polpettone ribadisco secondo me è veramente vergognoso cioè questo potrebbe essere per eccellenza un trasferimento atipico differente dagli altri che potrebbe aprire degli scenari clamorosi potrebbe essere da apripista per tantissimi altri trasferimenti di giovane di prospettiva in quella realtà nella saudi pro league perché finora non mi pare fosse mai successo cioè a livello di prospettive un calciatore del genere non mi sembra si sia mai spostato in saudi pro league cioè se a st'età c'hai il coraggio di fare una scelta di quel tipo secondo me ribadisco perché sempre un mio parere personale prima di mettere davanti la tua carriera prima di mettere davanti quello che potresti dare no metterti in gioco comunque nella squadra più importante d'italia attualmente ma anche fosse andato non lo so al bayern o secondo me avrebbe fatto la stessa identica scelta perché nessun club europeo se può permette di convincere con quelle cifre un calciatore che teoricamente tecnicamente quelle cifre a livello di stipendio non ce vale perché qua non è una questione no al celta vico hanno offerto 80 milioni di euro e anche il club che spinge al celta vico 36 o 40 per quanto per quanto 4 milioni posso fare differenza ma non gli cambia niente cioè è solo dal lato giocatore che fa tanto la differenza ed è lui alla fine che ci ha ripensato per quel motivo è assurdo pensare che veramente ormai regà tanti 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 calciatori mettano davanti i soldi tanti soldi di cioè il discorso che faccio io e poi chiudo il video non è come dire a una persona che guadagna mille euro al mese ti do 50 mila cioè mille euro al mese significa tu veramente non ci arrivi a fine mese no significa che fai fatica no se stai in affitto una cosa in altra non ci arrivi te dicono ti offro 10 mila euro al mese 50 mila euro al mese sono scelte che comprendo perché ti cambia comunque lo stile di vita ma un calciatore che comincia non so quanto percepiva il celta vico no però già che il napoli ti ha un paio di milioni di euro ma voi capite che due milioni di euro all'anno non è che sospici cioè lo stile di vita lo alzi drasticamente diventi comunque ricco e sopravvivi alla grande non so se me so spiegato ragazzi cioè questa è la differenza che forse in tanti non capiscono perché poi qualcuno dice è sempre il classico discorso da ipocrita lo avresti fatto anche tu no io avrei fatto come ha fatto scesni io avrei fatto come ha fatto zielinski so già ricco i sordi mescono dal culo ma che ce devo fa cioè ti rovini anche la carriera poi per carità ognuno è libero di fare quello che vuole ma è ancora più incomprensibile ed è un milinkovic savic che arrivato a 28 anni al top della sua carriera fa una scelta di sto tipo cioè a 21 anni proprio tu te vuoi rovinare secondo me è poi per quanto te vuoi mettere in mostra in un campionato nettamente inferiore ma questi te blindano te bloccano e rimani là come la vedo io poi sentendo fabio qualche settimana fa aveva detto simo e poi tra un paio d'anni so un pa tutto come è successo al campionato della cina e poi ritorna tutto nella normalità non lo so se ancora di questo parere però ribadisco ragazzi voglio la vostra qui sotto nei commenti per me è una situazione veramente assurda assurda ribadisco sono rimasto schifato da questa da questa scelta non per attaccare il il calciatore è un parere che è sulla cioè che prende in considerazione un po il tutto poi ognuno nella propria vita è liberissimo di fare di fare quel che vuole non c'ho più a voce vi ringrazio per la visione di questo contenuto ci tengo alla vostra qui sotto nei commenti e come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video quello che vedo di vi ho detto ciao rica